Non ci sono punte di diamante, forse questo piano considera la punta di diamante i nostri clienti e la fiducia che i nostri clienti hanno e vogliamo abbiano in maniera crescente i posti italiani. Ottimissima domanda, facciamo un po' i romantici, cosa resta della vecchia posta? Tutto, il passato nostro è importantissimo, è la nostra forza e siamo sensibili a tutte le realtà, a tutti i livelli perché il poste non è fatto dall'administratore legato, dal suo management team, il poste è fatto da tutti i nostri dipendenti dall'ultimo degli sportellisti, dall'ultimo dei portalettere che sono la storia e la forza di questa azienda.